Siamo stati tutti pazienti e responsabili e abbiamo aspettato per il bene della nostra comunità. Ma adesso non vediamo l'ora di ripartire. Trabocca la speranza e l'entusiasmo mentre si riaprono le saracinesche ed è un tuffo nei sapori, negli odori, nei suoni, nei colori che ci appartengono e tanto ci sono mancati. Certo a distanza ma non distanti, ogni giorno come sempre insieme ce la faremo. Filtrando i nostri sguardi abbiamo imparato a riconoscere i nostri sorrisi attraverso i nostri occhi, quelle finestre dell'anima che fanno trasparire più che mai i nostri sentimenti. Riapriamo con la gioia di accogliervi nei nostri negozi. Ripartiamo da qui, ripartiamo con voi. Grazie mille! Grazie!